Buongiorno, 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 buongiorno. Vi ho detto che la vita non ci dà mai ciò che noi domandiamo, però ci dà situazioni di vivere e persone di incontrare che vivere questa situazione e incontrare queste persone o saltare fuori con ciò che aveva domandato. Mi spieghi, ho domandato forte, metto in vita. La vita non ci dà situazioni davanti e difficili di affrontare e ho saltato fuori fuori. Ho domandato sapienza e vita. Ho incontrato persone plenissi di esperienze che fanno con loro e imparano altre. Ho domandato richieste. Eh, non ci ha dato il chiave, non ci ha dato i bracci. Basta, no? Ho domandato coraggio. Eh, e ci dà situazioni che ci fanno imporre. Perché il coraggio è una forma di gestione di imporre. Ho domandato amore alla vita. Ah, sì. Allora non ci dà persone che è difficile di volere bene. Ho tornato a ripetere che il Cinq sul prato di Planellis, lì dal santuario di Nimis, a Undis ho fatto la messa per tutti quei che si sono sposati dal santuario. Buone giornate e buone vite.